Praticamente siamo quasi pronti, via! E' sempre in leggero vantaggio Rasenshine nei confronti di Day 4, Indy Joyty, Bridge e Ghostly scatenate all'inferno, Premium Pressium Pavenick, Luna Lunatica, Paolina Bella, Bridge e Ghostly e Scuriserva. I cavalli entrano in addirittura d'arrivo con Rasenshine in leggero vantaggio nei confronti di Day 4, Premium Pressium Pavenick, Bridge e Ghostly a centropissa, Briganto Fanaule è sempre in leggero vantaggio di Day 4 nei confronti di Premium Pressium, avvicinate all'interno da Paolina Bella, passa Paolina Bella nei confronti di Premium Pressur, scatenate l'inferno di Day 4, Paolina Bella a condurre nei confronti di Premium Pressur, Pavenick, Luna Lunatica, è facile Paolina Bella nei confronti di Luna Lunatica. Grazie. Grazie. Grazie.